Benvenuti all'edizione di lunedì 30 gennaio dello Sport G, calcio prima divisione. Un gol di Mariano Arigni al 91esimo permette a Lande di conquistare un punto importante sull'ostico campo di Trieste. Al Nereo Rocco la Triestina passa in vantaggio con Curiale nella prima frazione e viene raggiunta nel finale dei Biancazzuri di Mister Cosco grazie ad una pregevole azione personale di Minesso e il tapping vincente di Arini. Al termine della gara alcuni tifosi andriesi hanno discusso in modo civile con il tecnico Molisano in merito ad alcune scelte di formazione. Termina 2-2 la sfida del Puttivi tra Barletta e Virtus Lanciano. Abruzzesi avanti di due reti a segno Chiricò e Pavoletti ma la squadra di Mister Cari contestato dalla curva reagisce e trova il pari grazie a una doppietta del solito Mazzeo. 10 realizzazioni stagionali per la punta bianco-rossa. Novità sul fronte mercato. Michele Menicozzo da quest'oggi non è più un calciatore del Barletta. Il centrocampista classe 87 si è casato Alberto Crema. Calcio dilettantistico. In serie D modesto pari per la Forti Strani che non va oltre il 2-2 contro l'Alberto Cristofaro di Oppido Lucano. Sul terreno del comunale i bianco-azzurri chiudono nel primo tempo i vantaggi di due reti, doppietta di Sallustio. Ma nella ripresa gli ospiti approfittano di un inspiegabile rilassamento del team di Delisanti e prima accorciano le distanze con Dama e poi firmano il definitivo pari con possi denti. In eccellenza continua il momento nodo del Biceglie che dopo la sconfitta patita al Ventura contro il San Paolo Bari esce con le ossa rotte anche dalla trasferta di Copertino. I salentini si impongono con il classico risultato di 2-0 e spezzano le già ridotte speranze di Neroazzurri di raggiungere la vetta. Il Monopoli vittorioso a Corato adesso è a più 12. Nel campionato di promozione importante successo casalingo del Minervino che supera 2-1 il Canosa nel derby della Bat. Domenica no per il Real Bat sconfitto al Manzi Chiappulin 4-0 dalla capolista Atletico Mola. E per la nuova Andria che cade 3-0 sul campo dell'Ascoli Satriano. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione dello Sport G. Grazie a tutti.